Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione del Televomero. Attenzione a petardi inesplosi, genitori stiano in guardia fino a dopo l'epifania. I botti possono creare gravi danni agli arti e agli occhi, soprattutto ai bambini se li raccolgono in strada. L'allarme viene dal dottor Mariano Marmo, responsabile della camera e perbarica dell'ospedale Cardarelli e della campagna contro le lesioni da materiale pirotecnico. Ecco il pericolo più grande in questi giorni, che seguono la notte del 31, nei luoghi dove non è stata effettuata la corretta pulizia delle strade. Dice il dottore che i bambini incauti non sorvegliati dai genitori possono avere la tentazione di recuperare i botti inesplosi. Intanto archiviato il 2014, tempo di programmazione per l'anno appena iniziato. Sarà l'effetto delle campagne di sensibilizzazione, magari combinato al grande freddo di quest'anno e alla crisi che colpisce le spese non essenziali. Fatto sta che i feriti per i botti di Capodanno sono diminuiti di un terzo rispetto al 2014. Ne sono stati registrati 251 a fronte dei 361 dell'anno precedente. Nessuna vittima come già lo scorso anno, in calo anche il numero dei minori feriti. 68 contro gli 89 del 2014. La città di Napoli e la Campania si confermano purtroppo ancora una volta comunque al top nell'uso dei botti. Il bilancio delle forze dell'ordine parla di 71 feriti, 48 nel solo capologo campano, dove si sono registrati alcuni episodi di particolare rilievo. Nel quartiere Barra, alla periferia orientale, uno scoppio ha provocato il crollo dell'androne di un palazzo, provocando tre feriti fortunatamente non gravi. Più pesanti invece le ripercussioni, per un 37enne ricoverato con prognosi riservata, l'esplosione di un botto gli ha lesionato l'addome in profondità. Un bambino di 10 anni, secondo la madre, è stato ferito da un botto raccolto in strada, rischia di perdere un occhio e ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono. Intanto migliaia di persone hanno cantato e ballato con Gigi D'Alessio, festeggiando il nuovo anno in piazza del Previscito. Grande successo per il concerto evento che ha visto l'artista napoletano, accompagnato da numerose star, da Fedezza Francesco Renda, dall'Ina Sastre a Enzo Avitabile a Rixbritti, fino alla compagna di Gigi Anna Tatangelo, la scaletta alternato le hit di D'Alessio a classici della melodia napoletana italiana, tra esibizioni soliste e duetti. Assente dal palco il sindaco Luigi De Magistris, tra la gente della sua città, ma non sul palco in qualità di sindaco, nel rispetto per chi vive ore drammatiche. E all'ente di ingrandimento, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, dopo aver tracciato un bilancio dell'anno appena trascorso, anticipa come sarà per la città di Napoli il 2015 e cosa si farà. Cosa accadrà nel 2015? Vogliamo dirlo ai telespettatori che ci seguono ormai da settimane e settimane in questa trasmissione che sta avendo molto successo, perché sono sempre molto contenti di partecipare, fare proposte e domande al sindaco. Innanzitutto non programmiamola troppo, la nostra vita sia personale che politica, perché qua gli eventi imprevedibili poi sono tanti, però abbiamo seminato tanto, abbiamo risanato i conti. Napoli e le sue società partecipate erano fallite ormai, si pagavano a 4 anni i creditori, chiudiamo il 2014 con una città risanata, che paga a 60 giorni i creditori, che ha visto nel 2014 il 100% di cantieri in più, e il più 15% di occupazione nell'edilizia, ha visto crescere moltissimo l'indotto legato al turismo e alla cultura, anche attraverso il commercio, anche i dati natalizi. Molti frutti anche di questo risanamento della finanza pubblica si vedranno nel 2015, che io dico deve essere l'anno soprattutto del progressivo miglioramento della qualità della vita, decoro, dettaglio, città più pulita, con servizi migliori, sempre attraverso un lavoro che deve essere di squadra, di rafforzamento dei segnali di legalità e vicinanza soprattutto ai più deboli. Quindi io vedo un 2015 con frutti sempre maggiori. Allora, ieri sera abbiamo finito una giunta tardissimo, dove abbiamo approvato tantissime delibere, per esempio sul rafforzamento della manutenzione delle strade, delle fogne, dei parchi. Quindi questo è frutto del fatto che avendo noi risanato il guaio che ci avevano lasciato, finalmente possiamo migliorare. Questo che all'inizio non tutti i cittadini avevano ben compreso, del perché non si percepiva un miglioramento progressivo, perché Napoli era fallita. Fallita significa che noi non solo non potevamo investire, ma siamo arrivati a un passo da dover chiudere i riscaldamenti delle scuole, chiudere l'illuminazione pubblica, non raccogliere i rifiuti, non pagare gli stipendi, ci avevano consegnato un disastro. Oggi c'è stata una grande attività di risanamento fatta con onestà, quindi non l'abbiamo caricato sulle future generazioni. Chi verrà a fare il sindaco dopo di me, mi auguro di poterlo fare io se mi candido, avrà un ente risanato in cui non avrà più i problemi che noi ci siamo caricati. Quindi questo significa anche guardare lontano. Quindi il 2015 poi posso e chiudo assicurare ai miei concittadini che non solo l'impegno sarà costante come in questi tre anni, ma se è possibile ci metterò ancora più tonicità e carica, perché l'affetto, come ho detto prima, che mi hanno consegnato tantissimi napoletani nel mese difficile della condanna in primo grado, della sospensione, c'è qualcosa che va ripagato secondo me solo con quello che io so far di meglio, lavorare per gli altri, lavorare per la giustizia, lavorare per la mia città che amo profondamente e nella quale ho deciso di vivere, nonostante le complessità, le difficoltà e i problemi. È stata una vera e propria odissea nella neve, durata quasi otto ore, quella affrontata dai vigili del fuoco di Piedimonte Matese per mettere in salvo una famiglia di cinque persone e sei ragazzi che erano rimasti bloccati la notte di Capodanno in due baite di Mirarago, località della catena del Matese facente parte del comune di San Giorgio Matese. È un posto suggestivo che è diventata una trappola. Fortunatamente tutto si è concluso per il meglio. Basta polemiche, a Natale e Capodanno i musei sono chiusi ovunque nel mondo. Il ministro per i beni, le attività culturali e il turismo, Dario Franceschini, chiede uno stop definitivo al dibattito sulle giornate di chiusura agli scavi di Pompei. Polemica che tra l'altro rimbalza in prima pagina sul Corriere della Sera dopo che ieri diversi autobus sono stati costretti a fare dietro front davanti ai cancelli chiusi degli scavi. In centinaia hanno partecipato a Napoli alla manifestazione promossa dalla comunità di Sant'Egidio in occasione della 48esima giornata mondiale per la pace. Il corteo, partito da Piazza del Gesù, ha raggiunto attraverso i vicoli del centro storico la cattedrale dove è stata celebrata la messa di Capodanno. Alla fiaccolata, a metà tragitto, si è unito il cardinale Crescenzo Sepe che ha poi preseduto la celebrazione liturgica durante la marcia aperta dai bambini e sposti i cartelli con i nomi dei paesi che sono tuttora in guerra. Nella celebrazione è stata introdotta una croce fatta con il legno delle barche che sono naufragate nel mare Mediterraneo, un segno che vuole ricordare la tragedia dei tanti naufraghi che hanno perso la vita durante il viaggio per cercare un futuro migliore. Nel corso dell'omilia per la messa di Capodanno in cattedrale il cardinale di Napoli Crescenzo Sepe ha voluto ricordare quanti stanno vivendo tante situazioni dolorose di conflitto e di guerra in varie parti del mondo. La pace che accomuna, la pace come segno di fratellanza, di dialogo, di superamento di tutte le differenze e quindi anche di superamento delle varie forme di schiavitù che portano l'uomo a soprafare l'uomo, a renderlo nemico, antagonista. La pace invece è quell'equilibrio umano, interiore ma anche di interazione, di rapporti tra gli altri, con gli altri e quindi anche con le nazioni. E laddove non c'è questo dialogo, non c'è questo senso di fratellanza, di amicizia allora c'è lo scontro, allora c'è la volontà di asservire gli altri come se fossero dei propri schiavi, per cui il messaggio del Papa non più schiavitù ma libertà, pace e libertà sono due sinonimi che sono connessi tra loro e che quindi devono essere da ognuno di noi cominciare naturalmente dalla propria realtà devono essere costruiti con un impegno sendendo la responsabilità di essere costruttori di pace se noi ci sentiamo liberi e rendiamo gli altri liberi. Continua a chiedere del marito Carmine Balzano napoletano disperso da domenica scorsa quando sul Normal Atlantic è divampato un incendio Maria non si arrende e continua a sperare riportati a casa mio marito e lancia un appello alle istituzioni italiane continuate a cercare, sono ancora troppi dispersi non interrompiamo le ricerche siamo stati abbandonati da tutti ancora non sappiamo se continuano le ricerche per quanto riguarda gli altri dispersi In occasione dei saldi invernali 2015 che in campagna hanno preso il via oggi si stima che ogni famiglia spenderà mediamente poco più di 300 euro per l'acquisto di capi di abbigliamento calzature ed accessori Pietro Russo, numero uno di confcommercio e imprese per l'Italia della provincia di Napoli traccia un bilancio positivo dello shopping natalizio determinato anche dal boom di presenza dei turisti che affollano i principali luoghi caratteristici della città e si augura un incremento anche nelle vendite dei saldi invernali qualche consiglio come sempre per evitare di essere vittime di cattivi affari c'è bisogno di attenzione da parte del consumatore ricordate, la merce va cambiata anche in saldo è possibile pagare con banco ma dai carte di credito ed il commerciante ha l'obbligo di esporre la merce con il doppio prezzo, ovvero quello prima dei saldi e quello scontato fare acquisti nei negozi di fiducia è la migliore garanzia purtroppo Napoli vanta un primato nonostante l'impegno delle forze dell'ordine e della magistratura nell'eseguire sequestri continua ad essere la capitale della contraffazione e dell'abusivismo le stime più prudenti dicono che il volume d'affari del falso a Napoli e provincia negli anni 2008-2012 è stato pari a circa 6 miliardi di euro su questa somma dunque lo Stato ha perso 2 miliardi di tasse se uno ha guardato prima cosa c'era e torna ora con i saldi penso che le cose possano andare bene questi saldi sarebbero una mezza fregatura anche perché io sono della zona e ho passato, cioè passo spesso diciamo così e vedo che sostituiscono il stesso prodotto però con un altro colore diciamo così ritengo soltanto che sia una bluff oggi già 50% io quest'anno personalmente non ho comprato tanto perché comunque per 6-7 giorni non mi va di trovare un capo che ho pagato 100 euro e di ritrovarlo a 50 euro dopo 2-7 giorni ho visto negozi che tipo dicono di mettere il 50% invece non è così assolutamente una cosa che stava tipo 100 euro mettono 120 barra 100 quindi è un pacco lei cosa ha comprato? io ho comprato niente io cerco di comprare comunque cose necessarie cose intime al 50% si aspetta proprio i saldi per rifarsi il guardaroba perché comunque durante l'anno è impossibile un pigiama a 50-60 euro è una cosa impossibile cartina al tornasole per individuare il raggiro di turno anche l'occhio allenato di chi magari vive in una città come Roma e trovandosi nelle vie dello shopping del capoluogo campano per un giro turistico proprio nel primo giorno dei saldi può fare già un confronto tra diverse città si rischia il pacco? secondo me sì perché diciamo queste scarpe che ho comprato a Roma l'ho trovato allo stesso prezzo non in saldo prima giornata oggi del sindaco Luigi De Magistris alla città metropolitana il primo cittadino si è recato nella sede della neonata città metropolitana in piazza Matteotti per firmare il suo primo atto De Magistris ha anche salutato dipendenti e dirigenti del lente presenti dando appuntamento al prossimo 7 gennaio per l'avvio delle attività amministrative del lente che sta nascendo circa 25.000 tifosi hanno accolto il Napoli per l'allenamento a porte aperte che si è svolto allo stadio San Paolo il settore distinti si è praticamente riempito sia nell'anello superiore che in quello inferiore tanto che il club azzurro ha deciso di aprire anche la curva B per accogliere tutti i tifosi a corsa allo stadio prima dell'inizio dell'allenamento l'allenatore Rafa Benitez è entrato in campo portando la supercoppa conquistata a Doha ed è stato accolto da un boato dei tifosi Benitez ha portato la Coppa davanti ai distinti salutando i tifosi che lo acclamavano è bello ha commentato il tecnico spagnolo cominciare l'anno così è una bella festa e i tifosi meritavano questo appuntamento Scudetto Champions League Europa League prima Europa League poi Scudetto l'anno prossimo Champions League 2016 sogno proibito per il mercato beh c'è un bel difensore un centrocampista adeguato quelli che ci sono sono adeguati però ovviamente si potrebbe aspirare a qualcosa di meglio mi affido a De Laurentiis mi fido di lui credo che sicuramente qualche ritocco ci voglia ci sono alcuni alcuni settori dove la squadra secondo me non è ancora ad altissimo livello io penso che non è una questione solo di di giocatori forse questo è la spettacolo di oggi lo lo dimostra secondo me abbiamo bisogno di strutture di di questo se riusciamo a migliorare sotto questo profilo qua anche il presidente secondo me è spinto a fare qualcosa in più realizzare i concerti allo stadio non mette a rischio nell'impianto nel manto erboso così il sindaco di Napoli Luigi De Magistris in merito alle critiche sollevate dalla società Calcio Napoli rispetto all'utilizzazione del San Paolo per ospitare i concerti di Vasco Rossi e Giovannotti il prossimo luglio oggi ha spiegato il sindaco si utilizzano tecniche che non compromettono assolutamente stadio e campo anzi i simili appuntamenti possono costituire occasione per riperire risorse potenziare ancora di più gli impianti secondo il sindaco è un'assurdità che una città come Napoli non possa accogliere concerti di grandi artisti nazionali e internazionali e che i napoletani siano costretti ad andare a Salerno a Caserta e perfino a Roma e Milano stagata in arrivo per gli automobilisti partenopei e per i cittadini della regione Campania dal primo gennaio infatti è aumentato il pedaggio della tangenziale di Napoli che è passato da 95 centesimi a ben un euro ma gli aumenti hanno toccato anche i mezzi pubblici della regione Campania e della fascia della città di Napoli sia in città che in provincia è infatti attivo il nuovo biglietto unico dal costo di un euro e quello integrato dal costo di un euro e trenta ai nostri microfoni l'insoddisfazione dei passeggeri ma anche degli automobilisti della città di Napoli secondo te era il caso di aumentare questi biglietti e la tangenziale? ma quelli giustamente con la manovra che hanno fatto finta di dare qualcosa agli italiani pure con l'80 euro di Renzi da qualche parte poi li devono recuperare c'è comunque una fregatura ma con i nostri trasporti campani che non funzionano proprio bene questo aumento è un po' una beffa in verità adesso a me poco interessano i trasporti umani perché io non sto più qui mi sono trasferito a Reggio proprio perché la mia città non offriva più niente in ambito lavorativo siamo stati costretti a trasferirci fuori regione in Emilia Romagna e lì i trasporti per grazia di Dio funzionano correttamente assolutamente sì è solamente un modo per fare cassa in questo momento anche perché non c'è un vantaggio effettivo almeno per quanto riguarda l'avvento del biglietto dell'ANM perché si porta 1.50 ma il tempo per utilizzarlo rimane sempre 90 minuti con i ritardi poi ogni tanto si ferma un mezzo se ne rompe un altro è un po' una beffa assolutamente poi con l'apertura della tratta fino a Garibaldi quella del Vomero ha diminuito le corse bisognerebbe vedere se poi questi soldi vengano reinvestiti per migliorare la qualità delle strade e dei servizi questo bisogna vedere hanno dimezzato il tempo del biglietto prima era un'ora e mezza adesso è soltanto una corsa però con i ritardi dei mezzi pubblici sembra comunque arricchirsi soltanto loro e penalizzarsi noi infatti io mi ricordo che quando c'erano i biglietti fai a bordo forse la situazione era meglio tutti quanti pagavano il biglietto e forse non c'era la crisi come c'è adesso si riducono i servizi e i prezzi aumentano questa è proprio una cosa generale di Napoli non so se che si accade anche da altre parti molto una grande beffa non ce l'aspettavamo sinceramente ma peggio di così non può andare bene noi ci salutiamo così grazie per essere stati con noi arrivederci grazie per la visione